Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi vi spiego come regolare così il volume del proprio microfono oppure la frequenza del microfono direttamente su Windows 11, in questo caso è possibile direttamente andare sulle impostazioni audio qua sotto, sull'icona dell'audio, tasto destro sopra, impostazioni audio, scende fino a giù fino a trovare così il tuo input microfono, altri microfoni collegati, qui puoi regolare il tuo volume oppure semplicemente andare su altre impostazioni audio dove stanno le impostazioni migliori, quindi vai direttamente su altre impostazioni audio ed eccole qua, registrazione, clicchiamo direttamente sul nostro microfono, come puoi vedere questo è il mio microfono, la tacchetta che si alza e scende, ci clicchiamo sopra, generale, ascolto, livelli avanzate, livelli, qui puoi regolare il tuo microfono quindi da 86 metto 90 oppure 50, 60, 70, 85 va più che bene, avanzate ed eccolo qua, ovviamente il mio microfono non può permettere così, quindi non può permettersi questa qualità professionale sulla frequenza, però tu se hai un buon microfono puoi regolare la frequenza qua, più migliori la qualità sulla frequenza più si sente benissimo, ok, più si sente bene la tua voce, miglioramenti segnale, metti abilità, abilità miglioramenti audio e basta e fai ok, se non trovi queste impostazioni puoi semplicemente andare su pannello di controllo, ed eccoli qua, hardware e suoni, gestisci dispositivi audio, ed eccoli qua, registrazione, puoi attivare gli altri microfoni che hai disattivato oppure che non sono collegati, come puoi vedere, li trovi su registrazione, riproduzione, qua trovi l'audio, le casse, i microfoni, le casse, le cuffie e basta. E questi invece sono i driver del proprio microfono, driver, dettagli, dettagli driver, e basta. Se vai su campi impostazioni puoi aggiornare i driver del tuo microfono, ed eccoli qua. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Grazie a tutti per questa visione, un piccolo tutorial sul microfono. Quindi grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.